Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, oggi un video sui calibri che poi andrà a finire nella playlist dedicata ai calibri meccanici. Oggi parliamo della serie 6.069.000 di EVC, un calibro nuovo, un calibro che ha ruota a colonne, un calibro che ha un innesto a pignone oscillante, ha un 46 ore di riserva di carica, è un pochino più spesso di un 7750, dopo vi dirò i motivi per cui lo paragono un 7750 e ha, a differenza del 7750 che è monodirezionale, nel senso che il rotore di ricarica ricarica solo da una parte, questo ricarica in entrambi i sensi e ha un sistema che non è il Pelaton ma che è una specie di quello che utilizza il Seiko, cioè il Magic Lever, che è un sistema che comunque funziona ma un pochino più semplice. Ora dirvi se la ricarica monodirezionale o quella bidirezionale, quale delle due sia meglio, è controverso. Io sinceramente un'idea, non ce l'ho, ecco, nello specifico c'è chi sostiene che sia meglio bidirezionale, c'è chi sostiene che addirittura sia meglio monodirezionale. Io più di questo non so che dirvi. Il progetto di questo calibro è, dovrebbe, ecco, si dice che sia stato portato avanti da Val Florie che è la manifattura del gruppo Richmond e di cui fa parte proprio EWC e inoltre, oltre ad utilizzarlo EWC, lo utilizza anche Mont Blanc questo particolare movimento. Ora, questo è un movimento che era molto aspettato, è un movimento che viene introdotto recentemente, comunque nel 2016, ma poi piano piano viene introdotto nelle varie collezioni e da ultimo, ecco, in questo momento qui il Pilot sta appunto, sta adottando questo nuovo movimento. Fino a qualche anno fa la faceva da padrone la serie 79000. Ora, la serie 79000 era un, di fatto, veramente un 7750 con il sistema di smistamento a camme leve. Ora, è chiaro che negli ultimi tempi, insomma, questo sistema, questo movimento faceva un po' storcere il naso, considerando che EWC è comunque un'azienda che propone i propri orologi a un prezzo importante. Insomma, al 7750 sappiamo che un movimento, molto affidabile, ma insomma, ecco, diciamo che era rimasta piuttosto, era rimasta un po' troppo indietro da questo punto di vista. Inoltre, negli ultimi tempi, per la politica proprio del gruppo Swatch, di non dare più i propri movimenti al di fuori del gruppo, del gruppo Swatch, ma anche del gruppo, diciamo, che loro avevano stabilito, quindi il gruppo Richmond non faceva parte di quel gruppo, di fatto, la EWC si approvvigionava da Sellita. Sellita è un'azienda assolutamente valida, un'azienda su cui non c'è niente da dire, ma insomma, fondamentalmente stavano montando un movimento che era un clone del 7750 di Valjoux. Quindi era richiesta, c'erano, insomma, gli appassionati richiedevano un nuovo movimento e l'EWC con, diciamo, il gruppo Richmond li ha accontentati creando questo nuovo movimento che è di ispirazione di un 7750, ecco perché lo paragonavo al 7750. Ci sono delle parti che sono in comune, ci sono delle modifiche, soprattutto parliamo naturalmente della ruota a colonne che è stata implementata al posto del smistamento a cam e leve. Ora questa operazione è stata realizzata anche dal gruppo Swatch che utilizza questo movimento, per esempio, per quanto riguarda Longines, ma ecco, è sicuramente una miglioria, è sicuramente qualcosa che migliora l'utilizzo proprio del calibro stesso, del cronografo stesso, la ruota a colonne è un sistema sicuramente migliore. Va detto che questo movimento, sicuramente rifinito industrialmente, però è bello, insomma, si presenta bene. È un movimento sicuramente che si fa apprezzare, tant'è che, per esempio, il pilot ha il... si può vedere il fondello, cioè il fondello a vista appunto perché si può vedere questo bel calibro lavorato, seppur lavorato appunto industrialmente. quindi questo è il piano piano, questo movimento andrà a sostituire i 79 e la serie 79, 79 mila e quindi di fatto al 77, 50 e poi ecco avremo insomma per al 100% insomma un calibro che si avvicina a quello di... a un calibro insomma di proprietario, ecco diciamo così. Poi rimane purtuttavia, io rispetto chi dice che è un derivato del 77, 50 perché ci sono, sono evidenti i rimandi al 77, 50 ma va detto insomma che in qualche modo il gruppo Richmond ci ha messo del suo e si è reso indipendente insomma non solo dal gruppo Swatch ma anche insomma da Sellita, no? Che produceva... che produceva dei... dei cloni così molto... molto semplicemente ecco. Ok, io vi vi saluto, come sempre insomma fatemi sapere che cosa... che cosa ne pensate e se vi è piaciuto questo video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti!